Altro record negativo sul fronte del Cess in Veneto, dove nelle ultime 24 ore sono 107 le persone che hanno perso la vita. Un dato che si inserisce in un'analisi più ampia dell'epidemia, che ha raggiunto la parte alta della curva, con un quarto dei positivi sui tamponi rispetto a marzo, ma con 700 pazienti in aria non critiche in più rispetto alla scorsa primavera. Questo perché ci sono gli assembramenti, vero veicolo di contagio, spiega Zaia, che sottolinea come il tema si è entrato nella videoconferenza di questa mattina tra Regioni e Ministro Boccia. E su questo fronte proprio il Governatore ha portato avanti una richiesta al Governo. Inutile che ci concentriamo sulla pista da sci, sul teatro o sul cinema. Decidiamo che l'assembramento è un problema, normate sull'assembramento. Sarà inevitabile che il gestore del teatro ti dica, ma scusa io sono chiuso e c'è la piazza della mia città che è gremita di persone. Ho chiesto che la norma, che poi, che ci sia una norma che abbia una ricaduta che sia perequativa. C'è bisogno di un nuovo patto sociale sul Covid, di un senso di responsabilità dei cittadini, perché non si può continuare fino ad aprile con DPCM e ordinanze. Torna a ribadire Zaia che al Governo ha avanzato un'istanza precisa. Campagna di informazione per ristabilire i collegamenti con i cittadini. Il cittadino deve capire che questo percorso lo dobbiamo fare assieme, se noi ci facciamo tanto male. Non moriremo di Covid, ma moriremo di altre patologie perché non riusciamo a prevenirle, o peggio ancora, a intervenire per tempo nel curarle. Zaia ha poi chiesto all'esecutivo che i ristori al Veneto dovrebbero aspettare 19 milioni dei 250 previsti per attività penalizzate dalle ordinanze regionali siano una certezza. Ed emergono indiscrezioni sui contenuti del nuovo DPCM che dovrebbe restare in vigore fino al 10 gennaio. Il coprifuoco dovrebbe restare alle ore 22, anche a Natale e Capodanno. Barri e ristoranti chiuderanno alle 18, pure nelle regioni gialle. Potrebbero essere chiusi dal 20 dicembre alberghi e resorti in montagna. E a proposito di stagione invernale, nella riunione odierna è stato affrontato il tema degli impianti da sci, auspicando un coordinamento a livello europeo. Il ministro Boccia dice che Premier sta lavorando affinché tutti chiudano. E non penso che abbiamo tutto questo potere d'acquisto. E nel prossimo DPCM potrebbe essere previsto l'intervento dei prefetti sui territori per gestire il trasporto pubblico in vista della riapertura delle scuole. Qui a noi non serve il prefetto, gli altri facciano quello che vogliono. Cosa volete mettere in dubbio? L'efficienza della regione, il lavoro dell'assessore De Berti rispetto ai trasporti.